Un pericoloso latitante rumeno sul quale pendevano due ordini di cattura, uno del Tribunale di Pesaro e l'altro della Corte d'Appello di Venezia, per associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni, furti nelle abitazioni, detenzione abusiva di armi e clonazione di carte di credito, è stato catturato dai militari della Compagnia Carabinieri di Pesaro. Il nucleo investigativo dell'arma era da tempo sulle sue tracce ed avuta la certezza che si fosse trasferito dalla Romagna, dove cambiava spesso residenza, nella nostra provincia con numerosi accertamenti e controlli, i militari sono riusciti ad individuare l'auto con la quale il 48enne si spostava, una BMW Serie 5 presa a noleggio. Nelle prime ore di sabato pomeriggio gli agenti del nucleo radiomobile l'hanno intercettata e bloccata lungo la statale 16 e condotto il latitante nel carcere di Villa Fastigi, dopo aver avvertito della sua cattura la procura di Pesaro e quella di Venezia. Ora l'uomo dovrà scontare 5 anni di reclusione per i reati commessi in Veneto, Trentino Alto Adige, Pesaro e Fano tra il 2011 e il 2012.